Il fatto non sussiste, assolto anche in appello con formula piena all'ex sindaco di Castiglion Fiorentino Paolo Brandi nel secondo grado a Firenze originata dall'inchiesta sul dissesto finanziario di Castiglion Fiorentino. La vicenda legata al dissesto si riferisce agli anni 2009-2010. Secondo l'ipotesi dell'accusa, Brandi e gli altri imputati avevano occultato dei debiti fuori bilancio per 1,8 milioni, facendoli risultare come conto terzi. Il reato ipotizzato era quello di falso ideologico. Con dei documenti fasulli sarebbero stati accesi 5 mutui del valore di 400.000 euro. Invece di finanziare le opere pubbliche, in questo modo si sosteneva la spesa corrente del comune. Raggirando anche la cassa depositi e prestiti. Un'accusa che però è completamente caduta in primo grado e ora in secondo grado una nuova assoluzione con formula piena per Paolo Brandi. Questa sentenza, commenta Brandi, voglio dedicarla a chi mi è stato vicino, in particolare a mio padre che non ha mai perso la fiducia in me e che se n'è andato prima di vedermi riabilitato.